E' un altro ministro, il diretto! E' un saluto ancora le amici di Tarantella Salva, che si sono fatti qui, va bene, va benissimo Tarantella, non ci sono dubbi, siete bellissimi comunque, vai! E' un saluto ancora le amici di Tarantella Salva! E' un saluto ancora le amici di Tarantella Salva E' un Saluto ancora le amici di Tarantella Salva Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.